Dottor Pozzo, un evento quasi unico qui in Molise, il primo dicembre di sera, questo coro di Russia Cristiana. Come nasce questa iniziativa qui a Castessa Vincenzo? Ma nasce da un'idea dell'abbate di Monte Cassino il quale aveva in animo di realizzare un evento qui per il Natale e così si è pensato al fatto che l'abbazia di San Vincenzo è stata l'abbazia dell'abbate Outperto che nel 777 appunto fu eletto abbate di San Vincenzo il quale può essere considerato il primo mariologo occidentale. E allora in omaggio a lui si è detto diamo un'idea della mariologia orientale nata prima di quella occidentale e così si è pensato a Russia Cristiana che verrà appunto qui con il suo coro e seguirà un programma con i canti sacri dedicati a Maria. Qual è la particolarità di questo coro? Che cosa stiamo offrendo a chi verrà ad ascoltare questa musica? Stiamo offrendo i canti sacri sostanzialmente ortodossi che sono però comuni anche alla Chiesa Cattolica di Rito Orientale e non solo questo ma stiamo offrendo anche l'iconografia orientale perché ad ogni canto per ogni canto saranno proiettate le icone pertinenti, icone che sono notoriamente molto affascinanti. Ecco quanto è importante la promozione della conoscenza della nostra storia ma anche delle diversità che poi hanno attraversato la nostra storia e ci ha portato fino ad ora? Beh è importante per tutti perché la storia è madre di tutti ma è importante soprattutto per il Molise e l'Alta Valle del Volturno che in questa storia affonda le proprie radici. Ecco per chi volesse partecipare all'iniziativa come si può fare, come possono avere informazioni in merito a questo appuntamento? Ma l'iniziativa è ovviamente aperta a tutti, l'iniziativa è per tutti, quindi alle 18 del primo dicembre inizierà appunto è previsto l'inizio di questo evento. Ulteriori informazioni possono essere attinte dal sito del monastero dell'abbazia di San Vincenzo. Grazie. Grazie. Grazie.